Buongiorno amici lontani e vicini, siamo con il dottor Giovanni Noto, referente della direzione sanitaria dell'ospedale di Lipari da oltre un anno. Ecco, dottore Noto, come ha vissuto, come sta vivendo la realtà della struttura ospedaliera di Lipari che indubbiamente vive e ha vissuto un momento del tutto particolare? Abbiamo vissuto questo momento in maniera abbastanza faticosa, devo dire, perché il doppio impegno fra la direzione sanitaria e la radiologia chiaramente mi ha preso parecchio. Tutto questo è capitato in un periodo in cui, da un punto di vista organizzativo, abbiamo avuto dei grossi problemi con i lavori in ospedale, per cui abbiamo dovuto rimodulare tutti gli spazi e riuscire a reinserire tutto quello che era possibile per non creare disservizi alla gente. Al di là dei disservizi che si possono essere creati per i percorsi, abbiamo cercato di mantenere tutto quello che era nelle nostre possibilità di mantenere e per fortuna da questo punto di vista fino ad oggi ci siamo riusciti. E' chiaro che in un periodo come questo, fra parentesi, con delle carenze che in determinati momenti sono state, a cui si è riusciti a sopperire, altre a cui in questo momento non siamo riusciti a sopperire, è stato tutto estremamente faticoso. Ecco, per quanto riguarda i lavori, i tempi di completamento o quali sono? Considerato, come diceva lei, che qualche problema particolare c'è stato per i percorsi, soprattutto di notte, nel momento in cui, fra l'altro, doveva intervenire anche l'elisoccorso. E allora, guardi, per quello riguardo i lavori, le prime previsioni erano di circa due anni. Potrebbero anche abbreviarsi, ma non abbiamo contezza, fin tanto che lei sa benissimo che è un lavoro, fin tanto che non glielo riconsegnano finito, non si può mai dire quanto dura. Questo è una cosa che vale per qualunque cosa. Per quello riguardo il discorso dei percorsi, chiaramente con dei disagi ovvi e scontati che ci sono stati o che ci sono o che ci saranno, abbiamo cercato di ovviare sempre con il buon senso e cercando di dare il meno problemi ai pazienti, che era l'unica cosa che ci premiava. Quindi abbiamo utilizzato anche ambulanze, quando non era possibile utilizzare dei percorsi che fossero idonei per i pazienti. Con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, sia con gli autisti che purtroppo, uno è andato in pensione, l'altro andrà in pensione e così via. Insomma siamo sempre in una fase in cui soprattutto il problema è il turnovere del personale, turnovere che ci costringe ogni giorno a dover sopperire a qualcosa, visto che in questo periodo a livello regionale, nazionale, nelle pratiche di stabilizzazione, nelle pratiche di mobilità, nelle pratiche di stabilizzazione, soprattutto del percariato e così via dicendo, si sono verificati dei blocchi al possibile ricambio del personale stesso. Quindi a questo stiamo cercando ovviamente di tamponare con quello che sono le forze di tutte le persone di grande buona volontà che lavorano qui con noi. Per quanto riguarda i padiglioni che sono interessati dai lavori, cosa saranno previsti per esempio ambulatori per gli specialisti e anche i dipendenti e l'amministrazione per esempio dal capannone si trasferiranno qui? Qual è la previsione? Allora la previsione, dico chiaramente, sarà qualcosa da concordare con il direttore generale che darà le disposizioni in merito. È chiaro che l'ipotesi di ambulatori e amministrazione concentrati in una determinata struttura sarebbe quella più auspicabile, probabilmente anche quella più possibile. E veniamo ai grandi problemi che purtroppo sono divenuti cronici della struttura, a cominciare dal punto nascite. Ecco, si può fare affidamento alla nuova politica sia regionale, quella prossima nazionale che si insedierà dopo il 4 marzo. Ecco, qual è il suo punto di vista sull'eventuale riapertura? È così problematica? Visto che le deroghe in Sicilia ci sono state anche in terraferma, vedi Bronte, Licata e anche e soprattutto nell'altra isola di Rimpettaia di Pantelleria. Allora, in atto, ufficialmente il punto nascita è chiuso e fin tanto che non ci saranno disposizioni diverse non è possibile riaprirlo. È chiaro che l'emergenza, così come è successo qualche tempo fa, viene mantenuta perché è obbligo nostro mantenere un'emergenza che sia adeguata. Per quello che riguarda le scelte politiche, sa benissimo che fin tanto che qualcuno che ha fatto tante promesse non ci dirà sì, riapriamo o non riapriamo, o abbiamo intenzione di farlo o di non farlo, non ne sappiamo nulla. Perché la riapertura vuol dire comunque assicurare un minimo di personale stabile, fin tanto che non ci sarà questo minimo di personale stabile non possiamo parlare di punto nascita e ne ne parlerei proprio. Mi accontenterei di avere qua due ginecologi stabilmente, uno stetrico con un servizio attivabile su 24 ore e sarei tranquillo che qualunque cosa sarebbe gestibile. Recentemente c'è stata una nota abbastanza forte da parte del sindacato Cimo Medici, rappresentato dal dottor Mario Pettinato e anche da Antonino Andaimo. Soprattutto per quanto riguarda l'organico carente, che possibilità ci sono di potenziamento? Le possibilità di potenziamento degli organici credo che ci siano e che saranno messe in pratica nei limiti delle piante organiche oggettive che ci sono in questo momento in vigore. Credo che tutto il problema sia proprio un fatto organizzativo, amministrativo a livello degli uffici del personale che in questo momento sembrano sommersi da richieste di graduatori e così via dicendo che qui non riescono a dare seguito. Perché il problema più grosso in questo momento è questo, che non si riesce a dare seguito alle graduatorie che ci sono, perché non si capisce quali sono le graduatorie che sono in vigore, quelle che sono già scadute, quelle che bisogna attivare. Quindi ci sono una marea di problematiche inerenti all'assunzione del personale. Ma non credo che ci siano da parte dell'azienda assolutamente veti per quello che riguarda il potenziamento del personale. Ma i tempi quali potrebbero essere? Allora i tempi diciamo che ragionevolmente si parla di mesi, perché chiaramente se lei prende una graduatoria qualunque deve pubblicare una delibera, la delibera deve essere posta all'albo. Dopo aver risposto all'albo avrà 30 giorni di scadenza per la presentazione dei documenti, per contattare gli eventuali papabili per le assunzioni o comunque per gli incarichi e tutto il resto. Dico che è chiaro che una qualunque graduatoria, ogni volta che venga fatta una delibera, se ne passano almeno due mesi. Tra le questioni evidenziate c'è anche l'anomalia di un medico anestesista che dovrebbe essere in servizio all'ipare, però è stato eletto sindaco in un paesino del Messinese e viene pagato dall'ASP. Diciamo che fin tanto che la legge glielo consente non abbiamo nessuna possibilità di fare nulla. E' una persona assunta e che con i diritti di legge riesce ad avere il 99,9% del tempo libero dal lavoro. Però aveva richiesto di rientrare in terraferma e invece per tutta risposta è arrivata una proroga fino a giugno? E' un problema che dipende direttamente dall'azienda. Il problema sostanziale è questo, il posto che lui ha vinto è qui. Quindi chiaramente l'incarico che gli viene rinnovato automaticamente è qui. Il fatto che lui abbia chiesto di tornare in terraferma, se non ci sono delle motivazioni particolari per farlo tornare in terraferma, è chiaro che l'azienda non è obbligata a farlo. E d'altra parte dovrebbe dare conto anche ad altri che possono avere fatto le stesse richieste che ha fatto lui. E' chiaro che in terraferma i disagi che lui crea sarebbero minori rispetto a quelli che è creato qui da noi. Questa è una cosa scontata. Però ci sono, ripeto, degli obblighi di legge o delle norme di legge che tutelano un determinato tipo di categorie e che purtroppo però ne penalizzano di contro altre che chiaramente sono costrette a sopperire a tutto quello che ovviamente non fa lui in servizio. Bene, abbiamo completato. Ringraziamo il dottor Giovanni Noto, referente della direzione sanitaria dell'ospedale di Lipari. Grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi. Arrivederci. Grazie.